In concomitanza con l'inizio dell'anno scolastico, la Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Salerno ha intensificato i controlli presso gli esercizi commerciali della provincia. Nel Mirino, la vendita di prodotti non sicuri e potenzialmente pericolosi per la salute degli acquirenti. E proprio nell'ambito dei predetti interventi, le fiamme gialle della tenenza di Sala Consilina, dopo mirati sopra luoghi, hanno individuato un esercizio commerciale nel ballo di Diano che aveva allestito gran parte del negozio con molteplici articoli di cancelleria quali quaderni, posti e risme di carta pronti per la vendita. Da un esame più accurato della merce, numerosi prodotti sono risultati non rispondenti ai dettami previsti dal Codice del Consumo, in quanto sprovvissi delle informazioni identificative minime quali dati relativi al produttore, al paese di origine e alla natura dei materiali impiegati per la loro realizzazione che per legge devono essere presenti sulle confezioni o sulle rispettive etichette in modo visibile e leggibile in lingua italiana. La posizione di tale dicitura infatti garantisce al consumatore finale la consapevolezza della qualità del bene che sta per acquistare, soprattutto il suo utilizzo in piena sicurezza. La merce irregolare è stata sottoposta al sequestro amministrativo e il titolare dell'esercizio segnalato alla competente Camera di Commercio rischia ora una sanzione prevista che vada a un minimo di 516 a un massimo di oltre 25.000 euro.